Eccoci, buongiorno a tutti. Il nostro mercato, le nostre mosse, le nostre scelte, i temi in discussione in casa nostra sono soprattutto lo stare vicino alla squadra e soprattutto il mercato. La nostra curva ad esempio l'ultima volta non è entrata nel merito delle scelte societarie ma ha detto però continuiamo a volere, a sperare, a sognare, a chiedere il salto di qualità. Che è legittimo per il tifoso. Ora, a me sembra dalle prime che stiamo facendo il mercato con le stesse modalità degli ultimi anni. Grosso modo. Non so se vi ricordate le state scorse, le scorse stati io vi dicevo ma vedo che per una necessità di ruolo del Milan c'è un primo nome ma ci sono anche le alternative. Mi sembra che sia la stessa cosa anche quest'anno. Ad esempio, prima punta, si parla di Marcus Thuram che oggi i quotidiani avvicinano però più al Paris Saint Germain. Però non dovesse arrivare Thuram ci sono delle sottovoci. Taremi, il bomber del Porto, Scamacca che è l'ex bomber del Sassuolo. Poi non so se sono nomi veri, conclamati, consacrati però io discuto il metodo. Il metodo è quello degli ultimi anni. C'è una necessità? Beh, c'è un primo nome e poi ci sono tutte le alternative. Lasciatemi ricordare OneFootball, OneFootball a vostra disposizione, l'app di OneFootball è gratuita, la trovate nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricatela l'app di OneFootball. L'app di OneFootball l'hanno scaricata tantissimi sportivi italiani, a milioni. L'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball è ricca di contenuti, soprattutto video. Scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball vi aspetta. Nella descrizione di questo video c'è il link, link è gratuito, scaricate l'app di OneFootball. Quindi il metodo è quello, è chiaro che il metodo è anche, il Milan non ha mai cercato in questi anni, in tutti questi anni, non ha mai cercato il colpo ad effetto quando sono arrivati Teo, Leao, Ben Nasser, non erano colpi ad effetto, non erano i nomi che ti fanno andare in strada a festeggiare l'arrivo di un colpo di mercato. E arrivo a dirvi che è molto meglio, io ho visto che, ad esempio, estate 2018, tutti in Duomo a festeggiare Iguaini e Caldara, è andata male, estate 2019, nessuno in piazza a festeggiare Teo e Leao, è andata bene. Arrivo a dire che è molto meglio non andare a festeggiare il nome. Però mi rendo conto che, ad esempio, noi nell'estate 2019 eravamo così a suoi fatti, a prendere schiaffoni ogni stagione, che va bene. Invece adesso, perché il calcio cambia, siamo dentro una dinamica diversa, siamo dentro un ciclo diverso, è chiaro che se quest'anno nell'intento di dare sostanza alla squadra, non per fare clamore. Il Milan non fa il mercato per il titolo, il Milan non fa il mercato per la donata dei tifosi. I tifosi erano andati tutti, parlando di tifosi, non io fisicamente, eravamo tutti andati all'aeroporto dei voli privati di Linate quando arrivò Fernando Torres. Va bene, però, ecco, a volte il mercato diventa un modo di rifarsi delle delusioni della stagione. E non deve essere così, invece. Il mercato deve essere il mercato. Mercato funzionale, mercato dei rinforzi. Però è chiaro che se quest'estate ci fosse un guizzo, ci fosse un colpo di reni, i tifosi ne sarebbero felici, perché è vero quello che scrive oggi la Gazzetta dello Sport, parlando del fatto che Gerry Cardinale, il suo primo bilancio in rosso-nero, potrebbe chiuderlo in attivo e sarebbe un record storico. Dopo tanti anni. È vero che oggi il Milan è un gioiellino, è vero che le cifre sono tutte al loro posto. È vero. Però sotto quelle cifre c'è tanta vita, c'è tanta passione. I ricavi e il fatturato aumentano perché il Milan in Champions League, perché il Milan oggi occupa una posizione industriale diversa rispetto a quella di stagioni fa. Però è chiaro che, per quanto di loro competenza, i tifosi la alimentano questa cosa. La cifra la tengono viva con il fuoco sotto la cenere dell'amore, della passione. E quindi, per non diventare... Perché le cifre, io lo so bene quanto siano sostanza. I numeri a posto del bilancio sono sostenibilità, sono anche un orgoglio del club. Il club, assolutamente un orgoglio del club, perché il club non ti espone, te come tifoso, me come tifoso, a brutte vicende, rischi, penalizzazioni, fuori dall'Europa, non fuori dall'Europa, eccetera, eccetera. Quindi benissimo, questa è la rotta. Però è chiaro che se si riesce a contemporare il tragitto, il percorso, con l'emozione del mercato, il guizzo del mercato, quel giocatore che, perché io lo so bene cosa succede poi quest'estate in casa nostra, se da qualche parte arriva Milinkovic-Savic e non da noi, si crea la tensione, si crea la depressione. Attenzione, questi sono climi che poi si rischia di pagarli alle prime giornate di campionato. Che cosa intendo dire? Che noi nell'estate del 2009, quando abbiamo ceduto Kakà, eravamo sotto un treno psicologicamente. Però non eravamo così deboli come si diceva, tant'è che a un certo punto noi a metà marzo del 2010 eravamo a un punto dall'Inter, capoclassifica, dopo tante giornate di campionato. Però il clima di depressione dell'estate 2009 ci costò la perita di tanti punti nelle prime giornate della stagione 2009-2010. Quando poi partirono tutti i bighi, Ibra e Tiago nell'estate del 2012, ci sono la stessa cosa, perché poi nel 2012-2013 abbiamo fatto un grande giro di ritorno con Allegri, siamo arrivati terzi, però abbiamo potuto arrivare anche secondi, se non avessimo perso quei punti, per depressione inizio stagione. Quindi bisogna stare attenti. Noi dobbiamo stare attenti a non deprimerci qualsiasi cosa accada, perché poi alla fine non è vero che siamo così deboli come si dice. E dobbiamo fare punti fin dalle prime giornate di campionato. È chiaro che se questo clima fra i tifosi venisse aiutato da un mercato che oltre che essere di sostanza e funzionale come è giusto che sia, oltre che essere un mercato fatto con metodo come sicuramente verrà fatto e come è giusto che sia, ci fosse anche quella componente di brivido, di emozione e di fantasia da contemperare con i passi economici che secondo la gamba il club può fare, sarebbe meglio. Ecco, credo di aver con questa mia sensazione, perché io qui vengo qui a discutere le mie sensazioni personali. Non datemi tutta questa importanza che ogni tanto mi date. Non vengo qui a dettare una linea o a dettarvi una linea. Non ho mai questa pretesa quando parlo di Milano e quando parlo di calcio. Qui, torno sulle regole di ingaggio come ho già fatto questa mattina, io vengo qui a condividere sensazioni. Vengo qui a dire la mia. Non siete d'accordo? Ma mancherebbe altro. Mi spiegate perché non siete d'accordo. Se poi diventa tutto però, come vi già dicevo oggi, un processo alla persona, un processo alla famiglia, un processo al lavoro, questo onestamente non lo accettereste voi al posto mio, non lo accetto io al posto mio. Per essere ulteriormente chiaro. A domani.